Ti interessa la pizza con l'ananas? La pizza con l'ananas? È un discorso molto importante. Siamo proprio... Guarda, mi piacciono i tacos con l'ananas, quindi anche la pizza. Ci sta, guarda, io sto difendendo la pizza con l'ananas che è una delle mie specialità di tanti anni. Ah sì, la fai anche qua. In Italia mi prendono in giro con questo. È una situazione abbastanza grave e mi rende molto triste. Come te lo spieghi? Perché la pizza fatta bene è grasso e acido. L'ananas tagliato fino fino, cotto sulla pizza, ti dà quella dolcezza, quell'acidità in più. È un umami, umami di pizza. È come il tartucco bianco, però per la pizza. L'ananas deve essere super sottile, non bagnata e deve avere una cottura perfetta. Tu pensi che questa lotta verrà vinta in Italia? Penso che sto perdendo, ma comunque sono contento a perdere questa battaglia. Penso! Sì